E' praticamente in via di ultimazione l'iter amministrativo per l'apertura del nuovo centro vaccinale di Pescara all'interno dell'Outlet Village di Città Sant'Angelo. La nuova soluzione è stata individuata dopo la chiusura del lab del palafiere di via Tirino dopo oltre sei mesi di vaccinazioni. I tecnici della ASL di Pescara hanno effettuato alcuni sopralluoghi prima di dare l'ok alla realizzazione del nuovo centro della provincia di Pescara. Nei prossimi giorni si inizierà con le prime inoculazioni prima di fare entrare la struttura a pieno regime. Soddisfatto il sindaco di Città Sant'Angelo Matteo Perazzetti. A seguito dell'interlocuzione con la ASL che ha individuato il polo di Città Sant'Angelo come polo per poter gestire e continuare quella battaglia della vaccinazione contro il covid abbiamo identificato di come un accordo una grande struttura di facile utilizzo con un grande parcheggio e prossima a tutta l'area metropolitana che sicuramente fornirà una facile fruibilità da parte di tutti i cittadini della provincia di Pescara che verranno lì ad effettuare la seconda dose, la terza dose o in alternativa anche le dosi primarie. Usiamo il condizionale ma venerdì dovrebbe iniziare diciamo la vaccinazione nella zona dell'outlet? Abbiamo già eseguito un sopralluogo con la ASL e anche con i proprietari dello stabile stiamo portando tutti quanti quelli che sono i materiali stiamo organizzando tutta quanta la fase di accoglienza di tutti quanti i pazienti da quello che si era detto entro venerdì la struttura entrerà in funzione piano piano poi si andranno ad implementare quelle che sono le linee finché si entrerà a pieno regime penso entro dieci giorni. Io non credo che sia un punto di cui o una medaglia su cui apporsi oggi facciamo una grande battaglia di comune accordo con tutti quanti noi i comuni del nostro territorio. L'Abruzzo è riuscito a reagire bene, la provincia di Pescara ha reagito bene, è stata Pescara e Montesilvano a raccogliere i primi due grandi centri hub, noi abbiamo accolto quelli che sono stati il territorio nostro per Città Sant'Angelo e Elici, oggi ci siamo pronti a poter raccogliere invece anche grandi mole di persone.